Raga, allucinante, mi trovo alla Milano Games Win Vinceremo un joystick? Si tratta di pescare dentro queste palline, vedete? C'è la possibilità di vincere un joystick, guardate, uno più bello dell'altro Proviamo Ho deciso di pescare quattro palline Ma il costo di 5 euro l'uno, raga, considerando che il joystick costa 270 euro Dai, dai Bene, questo ragazzo me le sta prendo tutte Andiamo No Dai, dai, lo sento, raga Ma cosa ho vinto? Devo vincere un joystick No, Game Over No No Beh dai, non fare tutti i pastiri cari